quella del pirata rimane una storia drammatica tragica densa di misteri e zone d'ombra che probabilmente mai riusciremo a dissipare l'italia della bicicletta con pantani aveva trovato un idolo che accumulava le folle non c'erano più i dualismi di coppie bartali o di moser e saroni c'era soltanto il pirata la sua straordinaria classe capace di entusiasmare i tifosi mentre lo seguivano in bicicletta quello che successe quel giorno a madonna di campiglio è consegnato al romanzo di questo paese pantani sapeva di quei valori fuori norma era caduto in una trappola o è vero quello che poi ha raccontato renato vallanzasca alla madre quando gli ha detto che era stato tradito dalle lobby delle scommesse clandestine un mistero mai risolto nel 2017 la cassazione ha chiuso il caso sulla sua morte dicendo che pantani non è stato assassinato ma è morto per overdose ma da allora l'indomita mamma tonina continua a chiedere la riapertura del processo convinta che pantani in realtà sia caduto nella rete di poteri forti quei poteri forti che probabilmente ancora oggi reggono in piedi il cancro del doping non soltanto nel ciclismo ma nello sport in generale